Dopo le abbuffate nelle sagre popolari, Monterosso si riscopre vecchio e fuori forma. Noi non ci attendiamo, cerchiamo di combattere il tempo che passa. Non ci proviamo dimagrire, ma è la verità che abbiamo usato un po' la brocca. È il momento della mangiatura, si può imparare pure. L'ansia di praticare un'attività fisica ha colpito il popolo monterossino. Dopo ci scura. Tanti saluti a tutto il mondo. Non importa come, dove e quando, l'importante è mettersi in movimento. Tuta, scarpette, bicicletta ed ecco che le strade in passato popolate solo da macchine, motorini e quant'altro, improvvisamente si trasformano in piste di atletica, ciclabili e aree verdi dove rilassarsi con delle lunghe passeggiate. Ultimamente si sta notando che c'è un frequente passeggio sia di persone giovanili che un po' di età avanzata. Sarà l'effetto televisivo il consiglio che danni i medici di camminare, sia per quanto riguarda l'ipertensione, sia per quanto riguarda il colesterolo. L'unica differenza forse è che noi camminiamo con un passo, si dice passo di bersagliere. Sarà l'effetto pure che io durante la vita, quando ho fatto il servizio militare, sono stato nei bersagliere e mi è rimasta la cadenza. Anche il centro storico, ormai dormitorio per colfe e badanti, si risveglia dal letargo e come per magia ritorna in auge, prestandosi come eccezionale palcoscenico. I protagonisti del nuovo essere Monterossini hanno lanciato un messaggio subliminale a chi di competenza, ente locale. Il nuovo modo di intendere il fitness potrebbe domani diventare l'idea per un centro benessere e risultare così un'attrattiva diversa ed un'offerta per il turismo, magari internazionale. Io sono qui per fare un 10 km al giorno perché venendo da Milano, stando sempre fermo, adesso non è per il proprio costume ma è anche un po' per la salute. Nell'attesa che qualcuno colga il messaggio e intuisca la validità della prospettiva, vi salutiamo e vi aspettiamo a Monterosso Fitness Center. L'anima pensa per quel lavoro, abbiamo un lavoro, abbiamo un lavoro, abbiamo un lavoro, abbiamo un lavoro, l'anima pensa per la prana, abbiamo un gesto e abbiamo un vede.